Prendi una miniband e posiziona l'intorno alle cosce, leggermente sopra le ginocchia come vedi nella foto. Da questa posizione spingi il bacino indietro ed esegui dei piccoli passi laterali, assicurando di che il ginocchio e il piede restino sempre in linea e che quindi l'elastico non porti mai il ginocchio verso l'interno. Assicurati inoltre che l'elastico resti in tensione durante tutto il movimento.